Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferri Niki E io sono Stef, e oggi siamo in un nuovo vlog Un vlog un po' particolare perché siamo dentro Minecraft Non un mondo qualsiasi, ma il nostro mondo che stiamo preparando per la serie Survival Che uscirà a breve, che stiamo finendo di preparare Esattamente, siccome tantissimi di voi ci hanno chiesto informazioni su come sta andando il server Su quando uscirà la serie Quindi, dato che abbiamo un pochettino di cose di cui parlare Abbiamo pensato di fare un vlog un po' diverso In cui vi facciamo vedere anche tutto il progresso che abbiamo fatto nel nostro server nel frattempo Esattamente, sei un Alex bruttissima perché stiamo avendo problemi Non riusciamo a far caricare le skin nel server Esatto Ma risolveremo a breve Questi sono dettagli Dettagli Comunque ci tengo a dire una cosa subito Spero che vi piacerà ragazzi perché ci stiamo lavorando tantissimo Ogni notte facciamo anche fino a luna di notte Cercando di costruire con qualche consolino che ci sta dando una mano E spero vi piaccia perché io sono molto molto soddisfatta di quello che finora siamo riusciti a fare Esattamente In questo video vi parleremo anche dei saluti perché c'è un aggiornamento importante su questa cosa Ma prima di tutto vi facciamo vedere tutto il server Allora, si inizia da qua Diciamo che questo qua è l'entrata del villaggio Va ancora un attimino finita di arredare Però questo diciamo che è l'inizio Queste sono due case Tutto il villaggio è in stile medievale Ci tengo a precisarlo perché così si capisce anche subito l'ambiente Esattamente Queste sono le mie torce preferite Sì, che a me piacciono tantissimo Sono troppo carine messe qua nelle case Vedete, c'è pure il tipo di sentiero fatto proprio in fango come nel vecchio medioevo Quindi tutto fatto l'ambientazione così Poi appunto Allora, le case all'interno non ve le facciamo vedere perché tanto ancora noi le abbiamo arredate Esatto Come tipico del medioevo proprio i cartelli che indicano tutte le zone Qua ci sono degli allevamenti ovviamente Esatto Perché come nel medioevo giustamente ci sono allevamenti Quello non lo facciamo vedere dentro Perché prima di tutto è ancora in fase di costruzione Soprattutto gli interni E ci sono già certe cose che un po' spoilereranno la serie Esatto Però ci tengo a dire che quello è il castello di Mr. Who Questo è l'unico spoiler che daremo su quella costruzione là Perché appunto in questa serie ci sarà il suo ritorno Esatto Per chi non capisce qualcosa ragazzi Mr. Who è il personaggio che diciamo Comandava un po' la serie di quasi Vanilla Craft Una serie che abbiamo fatto su Minecraft tanto tempo fa Abbiamo deciso di farlo tornare dato che vi piaceva tantissimo E' piaciuto tantissimo Cioè tanti hanno detto che sentivano la sua mancanza Quindi abbiamo detto perché non farlo tornare in questa serie E come vedete non è neanche una coincidenza Che lui abbia un castello così grande rispetto a tutte le altre case del villaggio Esattamente Poi vedrete di cosa si tratta Allora questa è poi un'altra casa Qui c'è un super orto gigantesco Sia di grano che di barbabietole Buone le barbabietole Ne vuoi mangiare una? Sì buonissime Non vuoi E qua c'è la nostra casetta Perché questa credo sia una delle cose più importanti Guardate quanto è carina Questa sarà la nostra casa Quella dalla quale inizieremo Ovviamente poi durante la serie cercheremo di migliorarla Perché una delle cose della serie sarà proprio quella Però questa qua sarà la casa dell'inizio E mi piace troppo Ci sono già affezionato Infatti è diversa delle altre Giusto per farla riconoscere sempre Comunque è troppo troppo bella Esattamente Ci sono già affezionato Ci vorrei vivere nella realtà Andiamo subito a far vedere la miniera È la parte Forse è una delle parti che mi piace di più Questa che abbiamo fatto Comunque c'è un motivo Se avremo una miniera a parte Delle zone a parte Perché sarà non una serie survival classica Ma molto particolare Un po' stile Quasi vanilla craft Ma migliorata Diremo che è una Esatto Vanilla craft 2.0 Non vi vogliamo ancora far capire Esattamente come sarà la serie Ci teniamo a dire Che sarà praticamente vanilla O proprio totalmente vanilla Siamo ancora lì l'indecisi Ma comunque lo stile sarà Di vanilla puro Però il gioco sarà Totalmente rienterpretato Quindi sarà qualcosa di stranissimo Dentro un vanilla Insomma una cosa Infatti anche il villaggio In stile medievale Il castello di Mr. Non sono a caso Non sono cose casuali Facciamo vedere questo dai Esatto Non sono solo cose per bellezza Ma facciamo vedere subito Questo percorso è fantastico Davvero Allora vado prima io Che ne dici? Ok vai Scusami Ogni volta Ogni volta Ho sbagliato E l'hai messo pure storto Cioè non ce la fai a cliccare Il tasto destro senza muoverti? No Aspetta Destro Ok Sono andata Vai 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 muoviti Arrivo Questo è tutto il percorso Che ci porta alla miniera È un po' lunghetto Un po' lunghetto Perché in effetti L'abbiamo fatta molto distante E anche la miniera Abbiamo costruito una cosa incredibile Per la miniera Tutto fatto da noi questo Esattamente E sono molto soddisfatta Questo percorso è troppo carino Sì ci abbiamo lavorato Allora Almeno una cosa come già 25-30 ore Ci siamo fatti aiutare Ad altre due persone Quindi ci abbiamo lavorato in quattro Siamo molto soddisfatti Secondo me siamo più o meno A metà dell'opera Perché una delle cose principali Della serie ancora Non l'abbiamo iniziata Però comunque Siamo davvero a buon punto Soprattutto con il villaggio Quindi sono soddisfatto Siamo arrivati Sì Distrugge un pochettino questi Che hai fatto Un po' troppi Un po' troppi Ho bucato Bravo Scordami Facciamo vedere anche l'interno della miniera No No Facciamo vedere così Proprio arriviamo Poco 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 Scendi scendi Perché anche dentro Abbiamo fatto tantissime cose Molto molto particolari Facciamo vedere giusto l'ingresso Esatto Ah che qui è tutto buio Facciamo vedere tutto al buio Della serie Vedo non vedo Guarda Ci sono Vieni da questa parte Vieni dritto qua Dritto qua Ok Facciamo vedere dal lato Vedete che ci sono delle stanze Che avranno delle cose Molto molto particolari Ma quello lo vedrete Direttamente nella serie Esattamente E questa è una delle cose Che ci ha preso più tempo Una delle cose di cui Siamo più soddisfatti E sarà una cosa Molto importante Della serie Sarà davvero importantissima Siamo un po' misteriosi Non siamo dire Come Mr. Ho Misteriosi Vedi Stiamo già entrando Nel vivo Della serie No vabbè Vogliamo mostrarvi un po' Quello che stiamo facendo I progressi che abbiamo fatto Però la serie Ve la vogliamo lasciare Per il primo episodio Dai Perché altrimenti Il primo episodio Perde valore E non vogliamo che succeda Anche perché poi Ogni volta che ci chiedono Della serie Rispondiamo sempre Stiamo lavorando Stiamo lavorando Però alla fine Se non si vedono risultati concreti Diciamo Sembra di non far parte Di questo progetto Quindi vi vogliamo rendere Partecipi Anche se siamo ancora agli inizi Abbiamo ancora Tante cose da costruire Esattamente Comunque qua Volevo far vedere Un pochettino L'entrata del casello Di Mr. Ho Dopo che abbiamo Praticamente finito Guardate c'è un piccolo parkourino Facile e facile Giusto perché Mr. Ho è antipatico E vuole sempre disturbare Anche quando vai a trovarlo Capito Tu gli vuoi fare Una gentilezza Per trovarlo Chi è scarsa col parkour Non andrà mai a trovarlo Tu? Esatto Dicevo che di mezzo Alle persone Che potrebbero andare A disturbarlo Quindi è felice così Mr. Ho Esattamente Vi faccio vedere Il castello dall'alto Allora ci tengo a precisare Che la casa nostra E questo castello Non sono fatti da noi Abbiamo provato A fare delle costruzioni 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 Non ci convincevano A un certo punto Abbiamo preso delle costruzioni Su internet Che davano tranquillamente Disponibili a poter mettere E le abbiamo messe Noi stiamo pensando Semplicemente a fare gli interni Perché ovviamente Devono essere personalissimi Per la serie Per la serie Quindi ci tenevo comunque A precisare anche questa cosa Perché questo castello È fighissimo E noi non siamo in grado Siamo migliorati Perché infatti Queste casette sotto Invece le abbiamo fatte noi Però col castello C'era uscita una cosa bruttina Non era No vabbè Il castello è già una cosa Più complicata Già è molto che siamo riusciti Comunque tutto il resto La miniera Anche tutto l'arredamento Che c'è dentro la miniera Quello è tutto fatto da noi E anche tutte le decorazioni Del villaggio Alla fine Tutte nostre idee Tutto fatto da noi Tranne il castello All'interno del castello È fatto da noi E la casa nostra E anche lì L'interno sarà fatto da noi Ci tenevo giusto a precisarlo In ogni caso Abbiamo massato tutto ragazzi Speriamo davvero Di iniziare questa serie Entro il fine Della settimana prossima Quindi tra Sette Otto giorni Dovremmo lavorare ancora tantissimo Ma ci impegneremo Dovremmo dormire poco E' questo che stiamo lasciando Un po' perdere Anche i raduni di Roblox Perché vogliamo iniziarlo Il prima possibile Esatto Quindi ci stiamo dedicando Tutto il tempo possibile Sì abbiamo rallentato Un po' come si nota Con i raduni di Roblox Abbiamo lasciato un attimino Fermo e Spore The Sims Anche Pokémon Go Lo stiamo registrando Un po' meno proprio Perché stiamo facendo Tutto per iniziare Minecraft Il più in fretta possibile Perché E non vedo l'ora Lavorandoci così tanto Non riusciamo a pensare all'altro Quindi ci teniamo troppo Ad iniziarle in fretta E poi c'è un sacco Ci sono un sacco di consiglini Che aspettano Quindi non vogliamo Farvi aspettare Dieci eternità Perché poi magari Vi fa schifo la serie L'avete aspettato un sacco Almeno la vedete subito Se non vi piace Ce lo dite Pazienza Comunque Sì Passiamo ai saluti Discorso saluti Discorso saluti Assolutamente Praticamente ragazzi Da ora in poi Non ci saranno più saluti Semplicemente perché Avete presente Qualche giorno fa Abbiamo fatto un video tutorial Dove spiegavamo Il nuovo sistema dei saluti L'abbiamo fatto conciso Chiaro Corto In modo tale che si capisse Si capisse Che non potevamo più salutare tutti Ho messo anche le scritte Proprio per essere chiarissimo Che bisogna avere pazienza Che comunque Siete 16.000 E quindi non possiamo Garantirvi un saluto Figuriamoci per il giorno dopo Perché molta gente Lo pretende di dire Per il giorno dopo Quindi abbiamo provato In questo modo Perché comunque Stavano iniziando a diventare Un po' stressanti i commenti Purtroppo Anche così La gente continuava a non capire Siamo arrivati a beccarci Dislike Siamo beccati a arrivare A vedere commenti Con gente in mi disiscrivo Perché non mi avete salutato E addirittura Alcuni sono arrivati A insultarci Mero pesanti Ovviamente abbiamo cancellato Tutti quei commenti Assolutamente Non vogliamo scatenare una guerra Perché nel nostro canale Abbiamo addirittura Messo delle censure Per qualunque tipo di parolaccia Perché proprio Vogliamo che sia un posto tranquillo Quindi non vi arrabbiate Ragazzi Semplicemente Non ce la facciamo più A portarli avanti Penseremo a qualcos'altro In futuro No È una cosa che mi dispiace Anche perché Cioè da quando li abbiamo iniziati Ci tenevo molto A farvi contenti A salutarvi Perché comunque È una cosa che si vede Che molti di loro Ci tengono Proprio Gli fa anche piacere Però ragazzi In questo modo Diventa davvero impossibile Ripeto Come hai già detto tu Molti non capiscono Che l'unico modo Per salutare Era di fare dei saluti casuali E quindi Non potevamo più pretendere Il saluto assicurato Come invece era prima E purtroppo Se deve diventare una cosa In cui ci becchiamo Solo insulti Alla fine Non ne vale più la pena Di continuare a farla Purtroppo Davvero ci dispiace Tantissimo Esattamente In ogni caso Come sapete Continueremo sempre A rispondere ai commenti Ormai siamo arrivati Quasi a mille commenti a video Poco meno Ma stiamo continuando A rispondere a tutti i commenti Ci mettiamo anche due o tre ore Ma non ci interessa Anche di più a volte Ci piace Quindi non ce ne frega nulla Di quello Siamo felici Di continuare a farlo E continueremo Sempre a farlo Se arriveremo magari Davvero in alto Perché alcuni ci hanno chiesto Metti Ma se arrivate a 100.000 Continuate a rispondere Sì Magari Siete bravissimi Metteremo solo un like Perché comunque risponde È soltanto grazie Non è nulla E che quando comunque Una persona ci scriverà Un commento lungo Noi risponderemo sempre Perché è davvero una cosa Che noi troviamo Importante Certo Quindi anche se non ci saranno I saluti Comunque potrete Sempre parlare con noi E penso che sia Anche più importante Di un saluto Sì Spero di sì Tenere un contatto stretto Spero che sia comunque apprezzato E secondo me È davvero più importante Esatto Comunque Ultima cosa che vogliamo chiedere Vai la vuoi dire tu Allora dai Parlo un pochettino io Esatto Parla tutta con io Che stai parlando tantissimo J Voglio di parlare Voglio di parlare Sì bravo bravo Allora a proposito di Minecraft Dato che siamo già dentro il server E siamo a tema Che bella alba Nell'attesa di iniziare appunto Questa serie Vi volevamo chiedere Cosa vi piacerebbe vedere Perché ci stiamo passando Anche in questo Giorni e giorni E non riusciamo a decidere Cosa fare Quindi cosa vi piacerebbe Tra custom map Minigame E qualche altra cosa Insomma qualcosa però di breve Che non siano magari Mappe troppo lunghe Cosa ne so Da 30 episodi Perché ovviamente Sta iniziando a breve Questa serie Quindi vogliamo fare Diciamo delle cose Che riguardano sempre Minecraft Ma che non siano troppo Longeve Mettiamola così Esattamente Vorremmo iniziare a portare In modo costante Minecraft Già da prima di iniziare la serie Anche perché in questo momento Come avete visto Stiamo facendo solo Roblox e Pokémon E non vogliamo portarvi solo quei due Perché alla fine Alla lunga stufano Quindi consigliateci Quello che vi piacerebbe di più Vedere da parte nostra Su Minecraft Cosa ne so Un minigames Una custom map Tipo c'è anche quella di Yandere Che ci avevano consigliato tantissimo Quella come quella Che abbiamo fatto su User's Day User's Day User's Day Queste mappe insomma Che sono piccole Ci puoi fare diciamo Uno o due episodi Una cosa del genere Esattamente Quindi fateci sapere nei commenti In tantissimi Quello che vi piacerebbe Vedere su Minecraft Vedremo di selezionare qualcosina E di portare nei prossimi giorni Qualche video di Minecraft Mentre finiamo di preparare Questa serie Comunque ci tengo anche a dire Che non ci saranno più saluti Ma proprio in questa serie di Minecraft Potrete aiutare Mr. Who Per diverse sfide Che noi dovremo fare Nella serie Nella serie E verranno addirittura salvati I nomi dei consolini Che diranno queste sfide Dentro al castello stesso Quindi diciamo Infatti ultimo spoiler Poi ti prometto non dico più nulla C'è una stanza dentro il castello Dedicata solo ai consolini Vi diciamo solo questo Quindi ci sarà comunque E poi il modo di rendervi partecipi Anche se ci sono più saluti Esattamente Speriamo che lo apprezzate E per oggi ragazzi Ci fermiamo così Ci vediamo domani Ciao 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 ciao